Secondo step ho messo all'interno di questo contenitore gli spaghetti dove ho fatto prima insaporire l'uovo con tutti gli ingredienti. Ora passo allo step successivo, scusate se vi metto una mano, adesso vado allo step successivo che è quello di andare ad accendere sotto ai fuochi e mettere poi la pasta per fare la frittata. A dopo. Grazie. Grazie. Grazie.